Mister Capellaci, pre-partita di Atessa a Teramo, intanto che Teramo vedremo? Quello che abbiamo potuto apprezzare con il Riccione è comunque una squadra in parte contratta perché sente comunque la posta in paglio. Questo aspetto condizionerà anche la gara di domani, questo essere un po' contratti, un po' tesi per una partita che non si deve sbagliare? Ma è normale che si possa essere tesi perché è giusto che ci sia tensione, perché la partita lo richiede e perché quando arrivi a questo punto un po' di tremore ce l'hai sempre. Non credo che saremo nelle stesse condizioni di domenica scorsa o di mercoledì con Riccione perché lì venivamo da un momento difficile con quelle due sconfitte maturate anche se vogliamo in maniera inaspettata e quindi c'era veramente lo spavento di toppare. Adesso penso che le cose siano diverse non perché noi abbiamo rivinto ma perché adesso abbiamo la consapevolezza che siamo ad un passo e quindi per quello che noto io la squadra è carica, pronta ad ogni evenienza, pronta a fare una grande partita perché la partita stessa lo richiede. Torneranno Calabuig e Chauvet? Probabilmente sarà in campo Chauvet, non Calabuig. Le chiedo, intanto sarà così? Uno e due. Borrelli è stata la soluzione nuova in attacco con il Riccione, sarà riproposta? Cosa possiamo dire? Ma guarda, senza che nascondiamo nulla, noi giocheremo con Calabuig dietro e insieme a Ferrani, il centrocampo sarà quello che è stato solito in questo campionato quindi con Borrelli, Valentini e Vitone, davanti rientrerà Masini, con Bucchi e Petrella quindi la formazione è questa, è inutile che metta dubbi anche a voi perché i giocatori sanno già come andremo ad affrontare l'ultima partita, diciamo l'ultima partita per modo di dire perché è veramente l'ultima se noi riusciamo a fare il punto riusciamo a vincere. Che a testa si aspetta? Loro sono in calo di risultati però con l'Ancona se la sono giocata hanno subito un punteggio anche sin troppo pesante però avranno delle assenze oltre al tecnico Ronci che è squalificato. Che squadra si aspetta? Mi aspetto una testa che darà il massimo di se stessa però me l'aspetto anche lei un po' contratta perché poi giocare con quel tipo di classifica non è neanche facile quindi sono convinto che non giocheranno una partita all'arrembaggio e faranno attenzione perché comunque il Teramo è una squadra forte.